eccoci e bentornati sul mio canale breaking news su call of duty black ops 3 jason blandel della treyark ha annunciato come previsto sul canale youtube di j6 backfire il dlc 5 di call of duty black ops 3 che prenderà il nome come potete vedere di zombies chronicles infatti durante appunto questa intervista con youtuber ha mostrato la maglietta che cosa conterrà tre mappe di world at war neck der totem verruc e shinonuma quattro mappe da call of duty black ops e kino der totem ascension shangri la e moon e una mappa da call of duty black ops 2 quindi origins troveremo le card di takeo eric tofen le card di demsey e nicolai un biglietto animato zombies heroes e una mimetica in versione limitata teen can il dlc 5 zombies chronicles arriverà in esclusiva temporale a quanto pare il 16 maggio su playstation 4 staremo a vedere quali saranno poi le date di rilascio su xbox one e pc fatemi sapere che cosa ne pensate ma soprattutto condividete questo video con tutti i vostri amici e lasciate un miliardo di mi piace e noi ci vediamo con tanti nuovi video se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale